Crediamo di avere ciò che vi serve. È un buon inizio. Allora, noi sappiamo che l'IBM ha messo in piedi questo posto per competere con l'Apple. E che volete lanciare un nuovo personal computer che spazi via la concorrenza. Beh, noi abbiamo un sistema operativo. Che genere di sistema operativo? Si chiama DOS. Questo è incredibile. Anzi, non solo incredibile. È storico. Secondo me dovrebbero metterlo in tutti i libri di storia, incorniciarlo e appenderlo alla National Gallery, mi spiego. Perché questo è il momento in cui si sono messe le basi di una delle più grandi fortune nella storia del mondo. Vedete, Bill Gates è l'uomo più ricco del mondo proprio per via di quello che accadde in questa stanza. E sapete una cosa? Altro che tutto fumo e niente rosto, noi allora non avevamo neanche il fumo. Voglio dire, proprio un cavolo di niente. Cioè, in fondo, che cos'eravamo? Una mini società da due soldi che diceva all'IBM di avere la risposta ai loro problemi. Il DOS, il Disc Operating System, per far funzionare quell'infinità di computer dell'IBM. Insomma, non avevamo neanche lontanamente quello che Bill stava cercando di vendere. Nada. Zero. Ecco, noi non vogliamo vendervelo completamente. Vogliamo concedervelo in licenza. Quindi resterà di vostra proprietà? Esatto. I guadagni vengono dai computer di per sé, non certo dai programmi software. Affare fatto? Grazie. 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 Grazie.